Ora, realizziamo oggi un motivo decorativo a forma di stella ad otto punte, un po' diverso da quello che abbiamo disegnato in precedenza. La base è sempre la stessa, cioè la realizzazione della parte iniziale del disegno dell'ottagono a partire dalla circonferenza, perché andremo sempre a cercare otto punti, quindi otto punte all'interno della circonferenza. Come al solito cerchiamoci il centro del nostro quadrante per poter disegnare abbastanza centrale la nostra figura. Come vi ho detto in precedenza, non è importante la precisione nella ricerca del centro perché non siamo ai limiti del nostro quadrante. Apriamo il compasso, io apro sempre a 4 cm, l'abbiamo fatto per tutti i disegni, quindi anche in questo caso 4 cm, e disegniamo la prima circonferenza. Ora sarò un po' veloce nel realizzare l'ottagono, la base dell'ottagono perché l'abbiamo già visto diverse volte. Quindi mi disegno la linea orizzontale che passa per il centro, mi disegno, per lo stesso centro faccio passare a verticale, e poi con il compasso con la stessa apertura, mi disegno le due bisettrici. Ho voluto cambiare la scritta in alto e ho fatto male. Quindi, questa è la prima bisettrice, questa è la seconda bisettrice, abbiamo ottenuto le otto punte. A questo punto cosa facciamo? Queste otto punte le uniamo in una materia un po' particolare, cioè disegniamo due quadrati. In pratica un quadrato è quello perfettamente orizzontale, che facilmente vediamo qui. E l'altro quadrato che andremo a disegnare sarà invece il quadrato, quello messo in obliquo, quindi puntato, equilibrato su un vertice, orientato su un vertice, uno e due, uno e due. Il disegno non è finito qua, perché da questi due quadrati dovremmo disegnarne altri due un pochino più piccini. Cosa facciamo? dobbiamo fare attenzione. Andiamo a vedere questi punti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Sono quelli che andremo nuovamente a unire sotto forma di due quadrati. Quindi abbiamo cominciato con quello orizzontale, continuiamo con quello orizzontale. Uno, due, tre, e quattro è molto bello, molto evidente questo quadrato. Andiamo a vedere l'altro. Uniamo questa volta i punti che abbiamo trovato poco fa, che erano immediatamente sotto i precedenti del quadrato, quello orientato in verticale. Ecco qui. La parte tecnica del disegno è terminata. Ora, anche questo, ci sono tantissimi modi per decorarlo. Uno di questi potrebbe essere creare una sorta di corona. Quindi noi potremmo scegliere, per esempio, un colore a nostra scelta, io scelgo il viola in questo caso qui, e disegnare questa sorta di corona. Quindi tutte queste punte, unite da questi pezzi a forma di rombo. Di nuovo una punta. Ricordate, nel dubbio, quando colorate, colorate un pezzo per volta, così da assicurarvi di non sforare in zone, tra virgolette proibite. Siamo oramai al termine. Chiaramente, se colorate in maniera un pochino più marcata, il colore evidenzierà meglio ancora la definizione del vostro disegno. Ecco qui. Quindi questa è un'altra forma decorativa a partire da una stella ad otto punte. Possiamo evidenziarne un pochino i margini, visto che io ho colorato in maniera molto leggera, così da vedere meglio l'effetto della corona. eccoci qua. Va bene? Come al solito vi invito a provare a effettuare questo disegno. Come vedete non sono impegnativi se avete già svolto tutta l'attività sui poligoni regolari a partire dalla circonferenza, e poi a rinviarmeli così da poterli valutare insieme. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo disegno. Grazie a tutti.